Antonella Clerici. I miei esempi sono Papa Francesco e Gesù, la conduttrice della prova del cuoco. L'Ave Maria è la mia preghiera preferita. I valori che ho imparato in parrocchia mi sono rimasti nel cuore. L'Ave Maria è la sua preghiera preferita, con Papa Francesco condivide la battaglia per la difesa del creato, e Gesù è l'antitesi dell'egoismo. Ecco la fede vista da Antonella Clerici. La popolare conduttrice della prova del cuoco ne ha parlato in un'intervista al settimanale Credere. Sono cresciuta in oratorio. La mia famiglia è credente, afferma la Clerici, e io sono cresciuta in oratorio. I valori che ho imparato frequentando la parrocchia mi sono rimasti dentro guidandomi e influenzando le mie scelte di vita. Da ragazza ho fatto incontri meravigliosi e conosciuto realtà splendide come i Papa Boys. Una gioventù che ha ancora degli ideali, e li difende senza per questo infangare gli altri. Incontri poco felici. Antonella non nasconde errori commessi durante la sua vita. Poi, lo devo ammettere, ho fatto anche incontri decisamente meno felici. Sono sempre stato uno spirito libero, che non obbedisce alla cieca, e non ama le etichette. Ad alcune persone non stava bene, e mi hanno fatto terra bruciata, d'altronde la Chiesa è fatta di uomini. Un aspetto che adoro, anche se ha le sue conseguenze. Gli errori comunque non sono l'ultima parola. Il fatto stesso, prosegue Antonella Clerici, che Papa Francesco sia stato eletto dai cardinali dimostra, che c'è una parte della Chiesa ancora molto sana. Bergoglio è infatti un Papa assolutamente moderno, che non ha fatto solo una carriera ecclesiastica ma ha vissuto la strada e conosce i bisogni reali delle persone. Un prete speciale. Don Pierangelo. La conduttrice della Prova del Cuoco racconta di aver conosciuto, negli ultimi tempi, un sacerdote davvero speciale. Ho sempre avuto un debole per i preti di campagna più che per i grandi noni, anche se poi esistono le dovute eccezioni. Ultimamente ho conosciuto un sacerdote amico del mio compagno Vittorio. Don Pierangelo Pietracatella. Era di questi luoghi, ora è diventato monsignore e vive a Roma. Ecco, lui mi piace, perché ha la cultura dei grandi teologi ed è destinato a fare grandi cose all'interno della Chiesa ma d'animo del prete di paese. Un po' come Papa Francesco che non ha dimenticato le favelas, né le sue origini. L'invito di Gesù, da credente, Antonella dice di essere affascinata da alcuni aspetti, che tramanda il messaggio cristiano. L'altruismo, la generosità e la riconoscenza sono tre valori cristiani che mi stanno molto a cuore, e che andrebbero recuperati, indipendentemente dal fatto di avere o meno fede. Oggi impera infatti l'egoismo. Gesù ci invitava ad amare il prossimo come te stesso. Ecco, forse come te stesso è un po' troppo difficile, ma basterebbe anche solo amare il prossimo per vedere rifiorire la nostra società. Inoltre sono molto devota alla Madonna. La sento vicina a noi comuni immortali. L'Ave Maria è la preghiera più bella di sempre. Adesso, il desiderio della conduttrice tv è di visitare un luogo di grande misticismo. Prima o poi voglio andare all'Ordes. È un luogo che mi affascina anche se finora non ci sono mai stata. Stando infatti bene dal punto di vista fisico, mi è sempre sembrato inopportuno andare a chiedere una grazia in mezzo a persone malate che hanno, loro sì, bisogno di un miracolo. Trovo inoltre che l'Ave Maria sia la preghiera più bella di sempre. Prego spesso la Madonna, e quando sono in difficoltà invoco anche l'aiuto di mia madre. Le donne, quando si coalizzano tra di loro, sono fortissime ride, ndr.ideali in comune con Papa Francesco. Antonella Clerici condivide con il Papa la battaglia per la difesa dell'ambiente, tant'è che lei stessa ha deciso di andare ad abitare in campagna con la famiglia. Ha ragione il Papa. Quando ti avvicini alla natura ti ricongiungi al creato. Qui in campagna mi sento centrata. Anche mia figlia, da quando viviamo qui, è molto più serena e solare. In mezzo ai cavalli, alle mucche, è felice. Tra l'altro sono sempre stata una sostenitrice della provincia. Per capire il paese bisogna vivere in provincia. L'America non è in New York, l'Italia non sono Roma o Milano, ma i piccoli paesi. Ed è a questa parte della popolazione che io mi rivolgo, prima di tutto, quando faccio TV. Grazie a tutti.